Il tempo e la velocità con cui sossegono le regole o le durate tutte uguali. E' una delle funzioni principali che noi facciamo con la sinistra. Il tempo stesso può essere un po' più articolato, un po' più interessante. La funzione della sinistra è tenere tempo. Lì si trovano pochi cambiamenti ritmici. Partneriamo del tempo e del ritmo sulle masterclass.